Faccio bene a pormi sempre un perché? Certamente. Cercare una risposta ai propri perché significa condurre la propria vita nel modo migliore. La persona che non ha più perché da porsi, conduce una vita senza motivazioni, una vita che diventa apatica, un andare di giorno in giorno senza trovare quello stimolo che riesca a smuoverlo verso qualcosa di superiore che ha all'interno e verso il quale deve sempre e comunque cercare di tendere. Porsi che perché significa essere vivi, cercare di raggiungere qualcosa che si sa esistere, ma non si riesce a scorgere veramente. E non è importanza riuscire nel corso della vita a trovare il perché definitivo alle proprie domande. Quello che riveste una grande importanza per ogni individuo è il cammino che fa nell'inseguire i perché. L'etica è equilibrata in proporzione del grado di evoluzione che l'individuo vive. Noi parliamo infatti di equazione morale e con questa espressione intendiamo la progressiva costituzione della morale dell'individuo che si inserisce nella ben più vasta equazione evolutiva dello stesso individuo. Questo significa che più l'individuo è evoluto più ha una sua morale fino a scoprirsi lui stesso la morale. Che cos'è la libertà? La libertà è una condizione interiore che non può essere cercata all'esterno. Può essere avvicinata, può essere conquistata e questo avverrà per ognuno nel momento in cui riuscirà a superare le barriere fra i propri desideri e la propria condizione interiore soltanto nel momento in cui egli riuscirà veramente a comprendere se stesso.